In collaborazione con Siamo pronti? Partiamo! Buonasera e bentrovati amici telespettatori, bentrovati con le marche nel pallone, tempi supplementari, il contenitore dedicato sempre alla promozione, un campionato emozionantissimo, oggi abbiamo ospiti gli amici dell'Aurora Treia, li salutiamo immediatamente, il presidente Francesco Compagnoni, buonasera a tutti, e il bomber Roman Ciorno-Pisciuc, buonasera a tutti. Aurora Treia che reduce dall'ottimo pareggio in casa della Civitanovese, ieri 1-1 al Polisportivo, presidente, una squadra la vostra che sta dimostrando di essere una mina vagante in questo girone molto equilibrato. Sì, secondo me stiamo giocando veramente un bel calcio, il mister Passarini forse ci ha messo un attimo ad ingranare, adesso i ragazzi hanno cominciato a dicerire gli schemi e il suo stile di gioco, insomma non abbiamo timore reverenziali con nessuno, ci confondiamo con tutti a testa alta e ci siamo tolti anche qualche piccola soddisfazione perché per una realtà come Treia andare al Polisportivo di Civitanova e fare risultato, già solo entrare in quel campo metteva un po' paura, invece siamo stati all'altezza della situazione, la squadra ha giocato benissimo, il bomber come sempre ci ha aiutato e quindi insomma ci siamo tolti anche questa piccola soddisfazione. Ecco hai citato il bomber, lo chiamiamo subito in causa, Roman ieri autore del gol del pareggio, gol su calcio di rigore contro la Civitanovese, sesto gol in campionato, un inizio di stagione per te e per la squadra molto positivo. Sì, è stato un inizio positivo, è nostro, abbiamo fatto un bel pareggio con la Civitanovese che a mio modo di vedere ci sta un po' stretto, meritavamo qualcosa di più, però un pareggio è sempre buono, muove la classifica e ora pensiamo alla prossima partita e per quanto riguarda i gol i compagni mi aiutano molto in fase realistattiva, dopo tutto qua. Roman ho avuto modo di vederti quest'anno in un paio di circostanze, sei il classico attaccante pericoloso che dà sempre fastidio a tutte le difese e che soprattutto ha una grandissima visione della porta come si suol dire in queste circostanze e che riesci a realizzare con grande facilità. Treia, l'Aurora Treia, Passo Treia è il tuo habitat diciamo un po' naturale, però vista anche la giovane età, 23 anni, la speranza tua, non tanto quella della società che lo vuole tenere sott'occhio, è quella di crescere e provare, Mari, l'eccellenza, la Serie D. Io cerco di fare sempre bene, migliorarmi sempre di più, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita per poi aiutare sia la squadra che i compagni a fare risultati, a vincere la partita e non nascondo sempre che desiderio sempre di salire di categoria, però per ora penso a fare bene in questa stagione e poi più avanti si vedrà. Presidente, Aurora Treia, promozione, chiesa nuova, promozione, è difficile mandare avanti una realtà, la vostra, comunque di una piccola realtà, in un campionato molto impegnativo, campanilismo immagino straordinario tra tutti, però insomma i miei complimenti per come da tanti anni riuscite a portare avanti una situazione che diventa nell'ambiente sportivo, promozione, eccellenza, una vera e propria eccellenza del territorio. Beh, noi quest'anno stiamo disputando il nostro, se non ricordo male, ottavo anno consecutivo di promozione, è un obiettivo che nessuno poteva immaginare per una realtà piccola come la nostra, che noi siamo Aurora Treia, insomma, una realtà che veramente 10.000 abitanti, abbiamo due squadre in promozione, tra noi e chiesa nuova, quindi insomma anche le risorse se ne speppiano tante. Penso che siamo tra le squadre che da più anni stanno in promozione, siamo la decana, come si dice, facciamo dei grossi sacrifici, facciamo, ci piace quello che facciamo, non è che, insomma, grazie all'aiuto di tutti, di chi è venuto prima di me, della famiglia Tartari, tengo a ringraziarla perché tuttora c'è Manolo che è il nostro direttore generale, Manolo Tartari, ex grande giocatore, insomma, che si è occupato di un po' di tutto, e, insomma, loro ci hanno regalato questo sogno, noi facciamo in modo di portare avanti questo sogno, di stare in una realtà che ci permette di vedere giocare, insomma, un calcio ad alti livelli, ci permette anche di poter tenere giocatori come Roman che ogni domenica, ogni sabato, insomma, ci fanno vedere quello che significa saper giocare a calcio, vediamo bei giocatori, vediamo un bel calcio, squadre che giocano in un certo modo, quindi è bello essere in questa realtà. Naturalmente i sacrifici ci sono, sono tanti, non nego che, anche io, come prima di me ha detto il presidente Bonvecchi, il presidente di Chiesa Nuova, che come me è un grande appassionato e mette la passione davanti a tutto, anche per me sarebbe bello riuscire a vedere dove possiamo arrivare insieme, perché è quella la sfida, capire, per noi la promozione è il massimo che possiamo fare adesso, insieme nessuno dice dove potremmo arrivare, quindi forse possiamo anche iniziare a buttare giù, insomma, un piccolo ponte per avvicinare questa realtà, poi, insomma, sarà la storia a parlare, vedremo. La situazione in questo com'è? Cioè, nel senso, ci potrebbero essere possibilità di unirvi insieme oppure è ancora prematuro poterne parlare? Ma, il discorso è questo, che noi stiamo, tra virgolette, bene, cioè facciamo il nostro tranquillamente, riusciamo a gestire la società, come ripeto, tra mille sacrifici, siamo tutte persone che rubano tempo al lavoro, alla famiglia, insomma, per portare avanti queste cose, come loro, d'altronde, e riusciamo a portarla avanti. Certo che, naturalmente, insieme, come si dice, insieme è meglio, però se stiamo soli, lo stesso faremo la nostra strada. Come ripeto, mi piacerebbe vedere dove possiamo arrivare, ma il mio obiettivo è quello, però, perché noi abbiamo, la nostra forza è anche avere nella rosa un grande numero di giocatori del posto, del comune di Treglia. Noi ne abbiamo 7 e 8, siamo andati in promozione avendo 18 giocatori su 20 del comune di Treglia, quindi è un nostro orgoglio. E loro, in questo momento, Chiesa Nuova, sta lavorando molto bene con i giovani, e anche loro sono arrivati a un punto di avere nella rosa 7 e 8 giocatori del comune che meritano di stare in promozione. Quindi, unendo le forze e prendendo questi giocatori che hanno fatto questa strada e che hanno permesso a questa strada di stare in promozione, chissà che non possa venire qualcosa di meglio. Magari coinvolgendo anche un'azienda leader del territorio, Pitreia, mettiamola così. Beh, l'aiuto, immagino che tu ti riferisca alla Lupe, l'aiuto è sempre gradito, non nego che ci stanno aiutando con il settore giovanile, ci stanno aiutando in diversi aspetti. Certo, se entrassero pesantemente potrebbe essere l'occasione per sistemare un po' di cosettine che non vanno, organizzare meglio la società, avere qualcosa di più. Ma più che altro per i ragazzi, perché noi abbiamo, oltre alla prima squadra che sta dando rischette soddisfazioni, anche un settore giovanile che va molto bene. Abbiamo 130 ragazzi iscritti, siamo scuola calcio, quindi è una realtà che sta andando molto bene. Se vogliamo portare i ragazzi in prima squadra, bisogna che lavoriamo bene da sotto. Uno dei nostri orgogli principali è che anche quest'anno abbiamo fatto esordire in prima squadra dei ragazzi, abbiamo l'ESCI, ieri è stato titolare con la Cittanovese, che è un 2001, e si sta rivelando un grandissimo giocatore. Fratini, nel 2002, l'anno scorso aveva esordito già in promozione, quest'anno si sta ancora confermando. Insomma, la realtà sta dando il lavoro che facciamo, sta dando i suoi frutti, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Roman, il Presidente citava il fatto che siete un gruppo, quasi tutti del luogo, no? Tu a discapito del tuo cognome, che lo ripetiamo, Roman Ciorno Pischiuk, abbastanza lungo, nato in Ucraina, ma ti sei trasferito, ci dicevi a due anni, a Passo 3, e quindi sei Passo 3 Iese Doc. È una forza, immagino, il fatto di un gruppo di tutti i ragazzi, che siete, immagino, anche amici fuori dal campo. Sì, sì, come hai detto tu, sì, sono venuto qui a due anni, mi sento Passo 3 Iese. E come ha detto il Presidente, siamo un gruppo di tutti i ragazzi del posto, e quindi è un'arma in più per noi. Siamo tutti amici, tra virgolette usciamo tutti insieme, e quindi per noi è una soddisfazione. Allora, abbiamo parlato con gli amici dell'Aurora Treia di questo inizio di campionato, adesso io pregherei la regia di mandare invece in onda le immagini della sfida che abbiamo seguito sabato scorso, il derby nel girone A, Osimana-Osimo Stazione, terminata 1 a 1. Termina in parità il derby del Diana tra Osimana e Osimo Stazione. Alla rete, messa a segno da Brandoni al nono del primo tempo, i locali hanno risposto con Pasquini al quindicesimo della ripresa. Un match vibrante dove il pareggio sta più stretto agli ospiti che hanno avuto diverse chance per gonfiare la rete. Da sottolineare come però nel finale sono stati gli uomini di mobili vicinissimi a realizzare il 2 a 1 con Pasquini, ma la sua conclusione si stampava sul palo. Con il pari odierno, entrambe le squadre restano vicinissime alla zona playoff. Andiamo alla cronaca, all'ottavo minuto punizione di Ferri, sfera alta sopra la traversa. Siamo al nono quando l'osimo stazione passa in vantaggio con Brandoni, punizione di Rossini deviata dalla barriera con l'attaccante ospite che è il più lesto di tutti a gonfiare la rete. Quattordicesimo, proteste dell'osimana per un gol annullato a Castorina. Le immagini lasciano il dubbio. Diciassettesimo, ospiti vicini al raddoppio. Il colpo di testa di Severini termina però di poco a lato. Trentaquattresimo, occasionissima per l'osimo stazione. Clementi ha sul destro la palla del raddoppio, ma non riesce a realizzare. Quarantaseiesimo, ospiti vicini ancora una volta al 2-0. Questa volta la conclusione di Martiri colpisce il palo. Siamo nella ripresa. All'ottavo minuto Marconi sfiora il raddoppio. Pesce esce alla disperata e il numero sette ospite non riesce a gonfiare la rete. Quindicesimo, arriva il pareggio dell'Osimana ad opera di Pasquini. Assist dalla destra di Castorina con il numero 11 locale abile a realizzare di testa da dentro l'aria. venticinquesimo, Brandoni sciupa la palla del possibile 2-1. A tu per tu con l'estremo locale cincischia troppo e perde l'attimo buono per concludere a rete. Siamo al ventiseiesimo quando c'è un'altra doppia clamorosa chance per gli ospiti. Bravissimo Pesce a ribattere sul primo tentativo di testa, poi Ortolani sciupa clamorosamente da pochi passi. Ventisettesimo, altre vehementi proteste dei locali per un dubbio fuori gioco questa volta fischiato a Cerbone lanciato a rete. Trentaduesimo, Osimana vicinissima al vantaggio con lo scatenato Pasquini, gran giocata in aria e conclusione che si stampa sul palo. E questa l'ultima emozione di un match vibrante dove alla fine il pareggio può accontentare tutti. Andiamo ad ascoltare la voce dei due allenatori Roberto Mobili per l'Osimana e Paolo Menghini per l'Osimo Stazione. Eccoci con mister Roberto Mobili dell'Osimana mister derby finito in parità una sfida tutto sommato corretto il risultato anche se ci sono tante cose da recriminare a mio avviso. Sì, sì corretto perché il primo tempo sicuramente abbiamo un po' sofferto i primi 20 minuti sappiamo che avevamo delle difficoltà di posizionamento di determinati giocatori che giocavano un po' fuori ruolo dovuto l'assenza però non è concepibile prendere un gol come abbiamo preso noi su una punizione non abbiamo coperto il nostro portiere che ha fatto una buona parata su una deviazione purtroppo facciamo degli errori di disattenzione e questo non va bene poi l'abbiamo rimesso in piedi su una buona azione abbiamo rischiato sia di perdere che di vincere l'altro sono state occasioni da una parte dall'altra prendiamo questo punto però non mi piace perché non non cresciamo non facciamo sull'attenzione soprattutto a delle assenze che non reputiamo alibi possiamo far meglio e dobbiamo far meglio altrimenti non va bene Paolo Menghini tecnico dell'osimo stazione allora mister innanzitutto complimenti ho visto una squadra quadratissima grintosissima un punto forse per certi versi giusto anche se avete immagino da recriminare che partita ha visto? eh sì non è buona abitudine recriminare ma a partire fino a 1-1 ci prendiamo il punto e siamo contenti è ovvio che contenti della prestazione contenti di tutti i ragazzi che sono scesi in campo che l'hanno fatto al loro meglio e contenti della squadra che abbiamo siamo contenti chiaro che vista la partita vista le parate che ha fatto il portiere loro forse forse ci sta stretto il punto è un paio di partite che forse raccogliamo meno di quello che seminiamo però va benissimo così perché siamo una matricola due anni fa questa squadra l'ossatura di questa squadra ciò che è in seconda categoria quindi io sono proprio fiero orgogliosi di ognuno di loro e andiamo avanti su questa strada che è quella giusta è troppo pensare alla zona playoff? sì 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 è troppissimo noi dobbiamo arrivare il prima possibile a salvarci l'obiettivo nostro è chiaro e dichiarato è giusto che sia quello bisogna essere umili nel calcio perché poi i mezzi che abbiamo al di là delle tante qualità che c'è la società che non ci fa mancare nulla però obiettivamente facciamo l'ossatura di questa squadra è sempre quella da qualche anno insomma però va bene così siamo contenti di questo dobbiamo salvarci torniamo in studio abbiamo visto le immagini del derby tra Osimana e Osimo Stazione uno a uno riprenderei con Roman allora Roman nel girone A c'è una squadra che non c'entra assolutamente niente con con questo campionato no? l'Anconitana sette partite sette vittorie poi dopo vedremo vedremo anche i risultati e la classifica come si fa andare a giocare con squadre che hanno Mastro Nunzio Iacchetta giocatori insomma di un livello nettamente superiore sì è una squadra di categoria superiore sicuramente come hai citato tu tre giocatori importanti del calibro di Mastro Nunzio Iacchetta che non c'entrano assolutamente nulla con questa categoria è una piazza che merita di stare in serie D è sempre difficile giocare in un campo del genere in uno stadio così tifosi che cantano il primo all'ultimo minuto è sempre dura allora io pregherei la regia di mandare in onda invece la videata con i risultati della settimana scorsa e lo scorso fine settimana e poi chiaramente anche la classifica partiamo con il girone A settima giornata Anconitana Laurentina 7 a 0 Barbara Santa Veneranda 2 a 1 Cantiano Valfoglia 1 a 2 Gabice Gradara Filottranese 0 a 0 Loreto Olimpia Marzocca 0 a 2 Mondolfo Villa Musone 1 a 1 Osimana Osimo Stazione 1 a 1 Villa San Martino Vigor Senigaglia 0 a 4 per una graduatoria che vede l'Anconitana in vetta 21 Vigor Senigaglia 17 Valfoglia 16 Gabice Gradara Filottranese Barbara 12 Osimana 11 Osimo Stazione 10 Cantiano 9 Villa San Martino 8 Olimpia Marzocca 7 Mondolfo 6 Santa Veneranda e Loreto 5 Chiudono il Villa Musone e la Laurentina con un punto Andiamo invece al girone B che è quello che vede protagonisti gli amici dell'Aurora Treia Atletico Azzurracolli Palmenze 3 a 1 Atletico Centobuchi Atletico Piceno 1 a 2 Camerino Monte Cosaro 1 a 0 Civitanovese Aurora Treia 1 a 1 Montalto Chiesa Nuova 0 a 0 Monturano Campiglione Atletico Ascoli 0 a 0 Potenza Picena HR Maceratese 1 a 1 Val di Chienti Ponte San Giorgese 2 a 0 Andiamo a dare un'occhiata alla classifica con il Val di Chienti Ponte in vetta quota 15 Azzurracolli a 13 Futura 96 12 Montalto Chiesa Nuova 10 Potenza Picena Atletico Ascoli 9 Monturano Camerino Aurora Treia Civitanovese Maceratese 8 punti Atletico Centobuchi 7 Monte Cosaro e Palmenze 6 Chiude la San Giorgese con 4 punti Presidente siete a quota 8 insieme alla Civitanovese e la Maceratese Ti faccio una domanda sulla Maceratese Che squadra è questa Maceratese e ti fa un po' impressione avere gli stessi punti di questa squadra Beh all'inizio del campionato se qualcuno mi avesse detto che a questo punto sarei stato insieme a Civitanovese e Maceratese sarei stato felice perché tutti quanti pensavano che queste squadre avrebbero ammazzato il campionato purtroppo per loro questo non si è verificato perché secondo me tutte le altre squadre si sono organizzate sapendo di avere di fronte queste due diciamo fortissime che avevano l'intenzione di vincere il campionato a mani basse tutte le altre squadre si sono più o meno organizzate si sono più o meno rinforzate come noi che lo stesso abbiamo preso un paio di giocatori che voglio citare sono Palazzetti e Gobbi che ci stanno dando grossissime soddisfazioni grandissimi giocatori ma come noi hanno fatto tutte hanno fatto l'Atletico Ascoli ha fatto l'Atletico Azzuracolli che già era forte l'anno scorso e quest'anno si è rinforzata insomma chiesa nuova stessa insomma tutte quattre si sono rinforzate quindi il campionato è venuto molto equilibrato con tre punti si è in zona di processione e con tre punti si è in zona diciamo playoff quindi sarà dura fino alla fine e noi insomma più in ora ci riteniamo abbastanza soddisfatti il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla fare un campionato tranquillo poi staremo a vedere quello che succede ecco abbiamo parlato un po' della maceratese chiaramente essendo la squadra del capoluogo spesso si è citato come la maceratese possa fungere da fulcro per tante altre realtà ci raccontavi anche a microfoni spenti che in passato c'è stata qualche situazione di eventuale possibile collaborazione però quanto sarebbe bello per il futuro avere magari una maceratese tra i professionisti e che sia il punto di riferimento per tutto l'Interland e poi società come voi come la vostra che possano essere di aiuto e da traino per una realtà quello è quello che io mi cioè che io auspico che debba succedere non sarà domani ma sicuramente tutti dobbiamo lavorare per questo per avere una maceratese che tanto è la squadra centrale del territorio che sia una squadra professionistica e tutte noi società piccole essere satellite della maceratese cioè io devo arrivare al punto di dare i miei gioielli tra virgolette del territorio giovanile alla maceratese per fare disputare un campionato nazionale che può essere allievi nazionali giovanissimi nazionali e farli mettere in mostra o gli uniori nazionali e farli mettere in mostra quindi e che di conseguenza mi porta anche a me un po' di visibilità se c'è un bel giocatore me lo valorizzano insomma deve essere il lavoro di tutti questo perché tanto non possiamo andare avanti da soli e non possiamo pensare che l'Aurora vada a inserire Dio chissà dove dobbiamo tutti lavorare ti stavo dicendo anche che questo lavoro lo stiamo un po' facendo con il Matelica con cui abbiamo dei piccoli contatti e con cui stiamo cercando di collaborare perché è la realtà che adesso in questo momento a livello provinciale sembra che sia quella che dà più garanzie tra virgolette che di serietà e insomma di lavorare bene Ecco probabilmente hai citato il discorso del Matelica Canil quest'estate aveva provato ad avvicinarsi a Macerata poi per un motivo o per un altro la situazione non è andata in porto ha costruito una squadra fortissima che comunque in pochi credevano potesse ambire al vertice in immediato perché una squadra che ha cambiato il diretto sportivo ha cambiato diversi giocatori con un girone nel Cesena quindi insomma difficilissimo poter ambire una cosa del genere questo pallino del polo provinciale penso che Canille lo abbia sempre in mente e potrebbe anche essere diciamo la cosa migliore per tutto il calcio locale nostrano diciamo certo il discorso di avere una società forte nella provincia è la cosa migliore per tutti Canille non lo conosco personalmente ma so che è una persona molto in gamba molto lungimirante che lavora molto bene l'unico problema è che Materica purtroppo non è centrale rispetto al territorio provinciale però insomma si possono trovare anche soluzioni diverse capire come poter fare per arrivare a quello che ti dicevo prima cioè avere una società forte professionistica nella provincia di Macerata come è l'Ascoli magari per il territorio ascolano che poi a cascata arricchisce tutte le squadre sotto di giocatori che comunque sono cresciuti in un certo settore giovanile in un certo ambiente in una certa società professionistica che vanno ad arricchire poi tutte le squadre dell'Ascolano e a seguire Certo Roman dando un'occhiata al vostro girone in vetta c'è il Val di Chienti Ponte secondo me in questo momento è la squadra più forte io l'ho vista un paio di volte conosco insomma la Rosa come è costruita una squadra molto strutturata bene per questa categoria difesa rocciosissima giocatore di qualità in tutti i reparti e davanti hanno un giocatore che ha fatto più gol di te Castellano ha iniziato benissimo il campionato nove gol secondo te è un po' la favorita in questo momento ma secondo me ottima è un'ottima squadra Val di Chienti sicuramente costruita per stare in zona playoff o addirittura vincere il campionato però secondo me ancora è presto per per dire chi è la favorita del campionato ecco sono passate sono trascorse solamente sette giornate e quindi secondo me ancora è troppo presto per dire chi vincerà il campionato Presidente fra un paio di settimane comincerà il tam tam del mercato tanto dal primo di dicembre ci sarà insomma l'apertura delle liste di svincolo tutte le società si muoveranno quindi già sono cominciati immagino i primi contatti con i giocatori migliori senza senza pensare ai presenti mettiamola mettiamola così la domanda è l'aurora treia come si muoverà in questo mercato allora noi i nostri gioielli li abbiamo blindati con contratti pluriennali che però le direttanti non ci sono con palle al piede che non si possono rottanare più dei 10 km dal campo sportivo nostro quindi non c'è nessun problema no noi spero che nessuno venga a toccare la nostra rosa o a imbezzerirci perché so che qualcuno può far qualcuno dei nostri giocatori può far vola anche la società però penso che questo è un progetto che abbiamo iniziato e finiremo tutti insieme come è iniziato poi staremo a vedere l'estate per quanto riguarda noi non credo che abbiamo bisogno di nulla dobbiamo solo credere un po' di più nei nostri mezzi la squadra c'è abbiamo un buon staff tecnico abbiamo dei buonissimi giocatori che siamo stati un po' sfortunati con alcuni infortuni che però anche questi tranne Cervigni che purtroppo si è rotto il legamento quindi ha finito la stagione ma parlo di ballini parlo di carnevali presto torneranno e quindi ci daranno una mano anche in quelle parti dove magari adesso stavamo in difficoltà quindi non penso che dobbiamo fare nulla chiaro che se qualcuno si offre o qualcuno ci cerca e può farci comodo non chiudiamo la porta a nessuno però sei nel calcio insomma dilettantistico da diversi anni a dicembre spesso tante società promettono 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 e poi non mantengono credo che la vostra forza è stata nel corso degli anni anche una serietà in tal senso però la domanda è al contrario quanto danno fanno queste società che pur di portarsi a casa il giocatore lo corteggiano in maniera straordinaria e poi ci troviamo alla fine dell'anno che due rimborsi tre rimborsi quattro rimborsi rimani solo se insomma ti pago il vecchio solo se rimani questo purtroppo è un grosso problema è un problema con cui ci siamo trovati anche noi con giocatori che avevamo cercato che non sono potuti venire da noi perché dovevano finire a prendere i rimborsi della società precedente quindi erano legati a quella società insomma è molto brutto anche perché onestamente falsano anche un po' quello che è è il valore effettivo di alcuni giocatori perché squadre che promettono e quindi alzano magari la bosta e poi non mantengono creano un problema per tutti perché danno un livello di rimborsa a cui nessuno può arrivare e poi onestamente è molto difficile mantenere questi batti noi come società abbiamo un budget abbastanza limitato facciamo quello che possiamo però quello che promettiamo lo manteniamo senza cioè questo è stato sempre una nostra arma i ragazzi che stanno con noi lo sanno abbiamo sempre mantenuto la promessa le parole quindi mi dispiace che purtroppo esistano queste realtà che tu hai citato perché anche noi come ti ripeto ci abbiamo dovuto ci abbiamo avuto problemi con queste cose speriamo insomma che tutti rientrino nella normalità delle cose Roman qual è il seguito da parte della vostra città siete seguiti dalla piazza come quanta gente viene alle partite no le persone ci sono che vengono a vedere le partite le persone che tengono alla maglia che ci seguono sempre in trasferta sia in casa che ci seguono ci segue parecchia gente abbiamo i tifosi quindi è sempre bello Presidente in un campionato così equilibrato lottare per il playoff lottare per il play out potrebbe essere questione proprio di due punti quindi forse in questo momento potrebbe essere il momento decisivo per assumere consapevolezza la squadra dopo un bel pareggio a Civitanova dopo aver superato alcuni ostacoli tra virgolette una sola sconfitta se non vado errato dall'inizio del campionato un pizzico più di maturità quella maturità che poi in campo non ti fa essere superiore o crederti superiore ma fartela giocare un po' alla pari a viso aperto è una fase delicata che dici? questo in effetti è un momento cruciale della nostra stagione perché dopo la pessima sconfitta in casa con la Palmenze in cui abbiamo giocato secondo me bene ma siamo stati sfortunati e abbiamo una sconfitta non immeritata siamo andati a prendere questo punto a Civitanova e ci ha dato molta carica perché è un punto importante di un campo dove pensavamo di non poter raccogliere niente e invece adesso avremo ci dovremmo sconare contro le prime la prima e la seconda della classe quindi è il nostro esame di maturità se riusciamo in casa non dobbiamo avere paura di nessuno dobbiamo imporre il nostro gioco dobbiamo battere tutti non c'è niente da fare e fuori casa ho visto che comunque anche a Civitanova anche a Chiesa Nuova abbiamo fatto un bellissimo derby nonostante fossimo fuori casa su un campo d'erba dove non siamo abituati a giocare insomma vedo che stiamo facendo bene per me queste due partite saranno cruciali per il nostro futuro ma non dico che dobbiamo fare chissà che per avere tranquillità o i soliti pademi d'animo che fino alla fine ci portano a lottare capire cosa poter fare da grande esatto allora noi siamo alle battute finali ringraziamo i nostri ospiti che vogliamo raccontare anche un aneddoto fino a ieri non erano stati invitati poi per una serie di motivazioni possiamo tranquillamente anche dirle perché gli ospiti di oggi erano gli amici della Civitanovese mister De Filippis e il capitano Miramontes per colpa di Roman Giorno Pischiuk che ha segnato sul calcio di rigore insomma l'allenatore della Civitanovese ieri si è dimesso e quindi in 4 e 4-8 abbiamo dovuto cambiare gli ospiti e gli amici dell'Aurora Treia sono venuti e ci hanno fatto grande piacere quindi li ringraziamo li salutiamo e ci salutiamo sperando che magari nella primavera potreste essere ospiti con una situazione classifica tranquilla speriamo in questo noi ringraziamo per averci ospitato siamo sempre disponibili quando volete perché ci fa piacere parlare di noi e del lavoro che facciamo che riteniamo sia un lavoro insomma ben fatto e quindi come dici tu speriamo di vederci più con Roman che ha fatto 25 gol e noi che siamo lì per vincere il campionato l'anno scorso Roman ne ha fatti 22 quindi quest'anno sei partito bene non diciamo che vogliamo farne almeno 22 però continuiamo in questa maniera che dici Roman? ovviamente ripetersi come l'anno scorso sarà dura visto le squadre di quest'anno però piano piano speriamo di disegnare sempre di più noi ringraziamo gli amici telespettatori che ci avete seguito e chiaramente vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con le marche nel pallone tempi supplementari arrivederci alla prossima in collaborazione con Dental City Studio Dentistico Specialistico e CityMed Poliambulatorio Specialistico Via Mainini 79 Monte Cassiano Football House Materiali e attrezzature per lo sport Casette Verdini di Pollenza Moplan Arredamenti Progettiamo insieme a te Castelplanio Ancona Laser Ufficio Via Cupa Madonna di Varano 8 Recanati Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori